buonasera scusate la luce un po' arancione sono con la luce elettrica un problema che riscontriamo molto comunemente nella lavorazione a maglia per quanto riguarda chi lavora con la tecnica continental è una certa difficoltà nell'eseguire il rovescio in questa mini lezione che voglio proporre con questo video cercherò di chiarire alcuni punti della lavorazione del rovescio vedremo brevemente quattro diverse tecniche per lavorare correttamente il rovescio continental vedremo un paio di punti difficili relativi alla tensione del filato e relativi ad una tecnica particolare della lavorazione del rovescio e cercheremo di chiarirci le idee su come eseguire il rovescio nella maniera più semplice e confortevole possibile il primo problema fondamentale che riscontro molto spesso quando insegno la lavorazione del rovescio continental è la tensione del filo molte persone quando lavorano continental tendono a tenere il filo soltanto sopra l'indice e passato sotto le altre dita senza ancorarlo in alcuna maniera questo non rappresenta un grosso problema quando si lavora semplicemente a dritto e non è essenziale mantenere la tensione il dritto rimane molto morbido ma comunque viene corretto diventa un grosso problema quando si cerca di lavorare il rovescio perché il filo non è governato né governabile ancora più che con il dritto lavorando a rovescio con il metodo continental è quindi indispensabile mantenere una buona tensione del filo ci sono diversi modi per tenere la tensione del filo una tecnica molto comune è quella di avvolgere una o due volte il filo attorno al mignolo e quindi farlo passare sopra l'indice vi anticipo che con questa tecnica io sono molto scomoda a questo punto il filo è ancorato e diventa possibile manovrare il filo vedete il filo attenzione sento il suo peso sopra l'indice e lo posso facilmente manipolare un altro metodo per tensionare il filo consiste nel passare il filo sopra l'indice e quindi nel trattenerlo tra medio e anulare e travolta anche sotto al mignolo il filo è tensionato e mantenuto in tensione da queste dita e nel lavorare il rovescio posso facilmente manipolare il filo esistono altre tecniche ancora per esempio un altro modo per tensionare il filo è avvolgere il filo più volte attorno all'indice e lavorare quindi in questa maniera mano a mano che esaurisco il filo farò cadere uno dei giri che ho caricato sull'indice questa è un'altra tecnica con cui io personalmente sono scomoda tende a tagliarmi la circolazione per me è molto faticosa inoltre costringe a lavorare con il dito in alto mentre io normalmente lavoro con il dito basso però anche questa può funzionare lavorando il rovescio abbiamo quindi visto che la tensione del filato il fatto di tenere la giusta tensione sul dito indice sinistro è assolutamente fondamentale nella lavorazione continental cioè la tensione del filato il fatto di avere il filo tirato sopra l'indice non tanto da farci male alcune persone tirano al punto da ferirsi non è necessario ma tirato a sufficienza da sentirne il peso sul dito non è indispensabile solo per produrre una lavorazione più regolare ed omogenea ma anche per eseguire con comodità e facilità il rovescio è ovvio che tenendo il filo con una tensione corretta riusciremo anche a dare più omogeneità al lavoro a evitare cioè quel difetto della lavorazione che si nota soprattutto nella maglia rasata in ferri di andata e ritorno che in inglese viene chiamato rowing out cioè quelle righe regolari in cui i ferri lavorati a dritto appaiono più compatti e quelli lavorati a rovescio appaiono più morbidi non è sufficiente a eliminare completamente il rowing out tuttavia una buona tensione permette di minimizzarlo se avete comunque problemi di rowing out lavorando il rovescio quindi la tensione rimane molto morbida tenete presente comunque l'opzione di tenere nella mano destra quando lavorate a rovescio quindi nella mano sinistra quando lavorate a dritto un ferro un pochino più sottile se state lavorando con il 4 e mezzo per esempio potrete tenere nella mano destra quando lavorate a rovescio per cui nella mano sinistra quando lavorate i ferri a dritto un ferro del 4 o anche del 3 75 il ferro più piccolo vi aiuterà a tenere una lavorazione più compatta tuttavia se non avete una buona tensione del filo nella mano sinistra nell'eseguire il rovescio il rowing out si presenterà comunque cominciamo dal rovescio continental classico quello che ho eseguito anche nella prima parte introduttiva di questo video in questo caso naturalmente mi dispongo con i ferri tenuti in mano e il filo davanti alla punta del ferro sinistro ricordate che nel passare dal diritto a rovescio è sempre indispensabile far passare il filo tra le punte dei ferri evitando di farlo passare sopra l'una o sopra l'altra per non creare dei gettati quindi porto il filo davanti al ferro sinistro con la punta del ferro destro entro nella gambetta ulteriore della maglia passando da dietro in avanti quindi abbasso il dito indice in modo tale che il filo si agganci alla punta del ferro destro a questo punto devo soltanto estrarre la punta del ferro destro e scaricare la maglia ripeto i passaggi faccio passare il ferro sotto al filo e dentro la maglia abbasso l'indice e faccio uscire io normalmente uso l'indice potete eseguire la stessa lavorazione abbassando il filo con la punta del dito medio questo per me è abbastanza scomodo per come tengo io il filo diventa più comodo se il filo lo si ancora attorno al mignolo a questo punto posso entrare abbassare il medio e con questo abbassare il filo ripeto questo è possibile se si tiene il filo avvolto attorno al mignolo comunque decidiate di eseguire questo punto lavorando con l'indice o lavorando con il medio la mano compie una quantità di lavoro piuttosto limitata il secondo metodo per fare il rovescio è sostanzialmente una variante del primo in questo caso anziché abbassare il mignolo posso ruotare l'intera mano cioè il mignolo resta fermo il movimento lo compie il polso e quindi estraggo la maglia lo ripeto più lentamente inserisco il ferro dietro al filo e nella gamba anteriore della maglia passando da dietro in avanti e piego l'intera mano in modo tale che il filo venga trascinato in basso prima di completare il rovescio vediamolo ancora una volta entro giro l'intera mano estraggo la maglia in questo caso la mano sinistra si muove pochissimo a compiere tutto il lavoro è il polso un metodo completamente diverso per lavorare il rovescio consiste nell'avvolgere il filo attorno alla punta del ferro destro vediamo come si esegue come sempre entro con la punta del ferro sotto al filo e dentro alla maglia quindi ruoto la punta del ferro destro in modo da creare una sorta di gettato attorno al ferro stesso e estraggo la maglia come vedete è molto facile perderla per cui io consiglio di tenerla ancorata tenere questa gettata attorno al ferro ancorata con il pollice mentre si estrae la maglia in questo caso si svolge ancora meno lavoro con la mano sinistra praticamente tutto il lavoro è a carico del polso e del pollice della mano destra vediamolo ancora una volta entro come al solito per eseguire il rovescio avvolgo il filo attorno alla punta del ferro destro ancoro con il pollice estraggo la maglia e scarico in tutti questi casi che abbiamo visto finora il filo per eseguire il rovescio doveva essere tenuto davanti al lavoro questo prevede una certa mobilità del dito indice sinistro che governa il filo e lo fa passare da dietro ad avanti sempre girando tra le due punte dei ferri senza mai passare sopra esiste una tecnica che ci permette di fare il rovescio continental tenendo il filo sul dietro del lavoro si tratta del rovescio norvegese che vedremo ora l'ultima tecnica per eseguire il rovescio che vedremo è molto particolare perché si tratta di una tecnica in cui il rovescio si esegue tenendo il filo dietro al lavoro anziché portarlo davanti è una tecnica come vedrete abbastanza complicata richiede delle manovre particolari con il filo i ferri e le maglie ma molto interessante soprattutto per chi ha particolarmente poca mobilità con la mano sinistra già la tecnica precedente quella in cui avvolgiamo il filo attorno alla punta del ferro riduce il movimento della mano sinistra con questa tecnica la mano sinistra rimane ferma nella stessa posizione che si usa per il dritto tuttavia ammetto che è un rovescio un po' intricato studiatelo comunque perché può essere comunque interessante per chi fatica ad articolare bene la mano sinistra nel rovescio norvegese il filo si mantiene dietro la punta del ferro sinistro è la stessa posizione da cui lavoriamo il diritto per eseguire il rovescio norvegese dobbiamo per prima cosa far passare la punta del ferro destro dietro il filo tenuto dietro la punta del ferro sinistro quindi entriamo con la punta del ferro destro da dietro in avanti nel filo anteriore della maglia sul ferro sinistro a questo punto succede una magia per prima cosa allargo le punte del ferri rendendole quasi parallele stirando la maglia passo con la punta del ferro destro dietro la punta del ferro sinistro e aggancio il filo come abbiamo visto nel precedente metodo per lavorare il rovescio riporto la punta del ferro destro davanti al lavoro e posso estrarre la maglia vediamola ancora una volta porto la punta del ferro destro dietro al filo dentro la maglia apro aggancio porto fuori finiamo parlando di un metodo da non usare in nessun caso per fare il rovescio continental che è quello che elisabeth zimmerman chiamava il rovescio facile l'easy pearl che è un altro errore molto comune che vedo fare nella lavorazione continental il rovescio viene gettato in verso anti orario come vedete il filo gira in verso anti orario attorno al filo al ferro prima di estrarre e scaricare la maglia molte persone entrano nella maglia passando sopra il filo l'agganciano così e in questo modo il filo gira in verso orario attorno al ferro ed estraggono la maglia questo breve video credo che vi abbia dato già alcuni elementi su cui riflettere per quanto riguarda il vostro modo di eseguire il rovescio ovviamente non si tratta di un video esaustivo l'ultimo suggerimento che mi sento di darvi è legato all'ergonomicità del lavoro per me l'ergonomicità del lavoro è un elemento centrale molte persone passano alla lavorazione continental pensando ritenendo che questa sia più veloce sappiamo che non è esattamente così a oggi la persona più veloce al mondo nel lavoro della maglia è isole tindall una signora scozzese delle isole shetland che lavora english e che ha una velocità veramente impressionante per cui non è così vero che la lavorazione continental sia più veloce è vero che il dritto continental è estremamente ergonomico il rovescio lo è un po meno molte persone per evitare di lavorare il rovescio percepito come complesso tendono a lavorare il dritto continental e passare il filo nella mano destra per cui passare alla lavorazione english per la lavorazione del rovescio questo è secondo me il metodo meno ergonomico in assoluto è quello che vi costringe a fare la quantità maggiore di movimenti inutili la cosa che vi invito a fare la cosa che vi invito a ricercare quando provate a determinare a studiare il vostro modo di lavorare il rovescio è di tenere presenta questa ergonomicità la conseguenza estrema di questa riflessione sull'ergonomicità è che a seconda del lavoro che state facendo la soluzione più ergonomica in assoluto è di non cambiare mai di mano al filo per cui se siete veramente più comode a fare il rovescio con il filo nella mano destra quindi con la lavorazione english continuate a usare la lavorazione english per lavorare anche il diritto ricordatevi che la lavorazione english è tranquillamente praticabile con il ferro circolare che non è né proibita né sconsigliata né scorretta per cui cercate la vostra lavorazione più comoda al limite potreste passare alla lavorazione continental nelle sezioni a maglia rasata in tondo in questo modo avrete una lavorazione uniforme con il filo nella mano sinistra ma continuando a usare il filo con la tecnica english quindi nella mano destra per tutte le altre lavorazioni e con questo vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione buonasera